Tante buone indicazioni sono emerse dalla prima sgambata contro l'alto Savio per il Cesena. In palla già risultano i baby gemelli spendi, protagonisti di 5 delle 11 reti totali, suddivise con 3 marcature per Steven e 2 per Christian, ma anche Chiarello e Adamo. Spettacolare è poi risultata la rete del neo arrivato Bumbu in rovesciata. Sul tabellino sono finiti anche Pittarello, Freezer e il baby Amadori. I ragazzi stanno lavorando tanto, c'è tanto ancora da lavorare perché ancora vedi che la palla non gira velocemente, non piacerebbe a me, ci muoviamo con un tempo ancora di ritardo, ma è normale, si sta lavorando tanto, è giusto che sia così, bisogna continuare così perché ho visto anche la squadra applicata per cercare di fare quello che si è fatto in questa settimana e quindi andiamo avanti così. Il cammino è ancora lungo per la formazione di mister Toscano, il lavoro è solo all'inizio per dare un'identità forte alla squadra. L'applicazione da parte di tutti, il cercare di fare quello che abbiamo fatto in questa settimana, il cercare di aiutarsi, la collaborazione, per me questo è un periodo fondamentale dove riesci a creare le basi che ti devono servire per quello che vuoi costruire. E' importante che i ragazzi si cercano, è importante che si aiutino, è importante che si crei qualcosa di forte, è qui che lo crei perché poi si lavora tanto, devi soffrire, devi imparare a soffrire perché ci sarà anche da soffrire, quindi bisogna continuare a lavorare su questa strada.